questa però non è rilasciata ancora guarda ma io sto registrando ma sta registrando? vai vai namo 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 vai zitto namo oh sto caricando bitch down bitch down look at my 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 down Mattarella Mattarella Zitto Andorio bello a tutti scusami sta la nave sopra si sta registrando vabbè vai ho giordo zitto la canzone è epico hai da la voce bitch down hai da la voce bitch down click my down click my down click my down andorio saluta stupo ahahahahahah stupendo sto guardando non know ah non è mündio ah no oh bitch made up bello non è un bello c'è il giocatore loco Matteo loco Matteo loco Matteo loco Telly loco loco Telly Telly zi io non mi registro più ragazzi no dai oh però caldo fai me la buccia fai me la buccia l'americano è stato convocato dove? il giocatore il giocatore quindi si convoca sempre sai perchè non è stato convocato? a prossimo se guardi questo video ti ha spottuto il palmiere non è vero e anche il galario non guarderà mai sto video se lo guardo lo banno da youtube guarda il mio c***o ah vuoi vedere il mio video? su PowerDirector ho fatto la ciclativa ma comunque hai comprato i giornalimenti tu io tu? lo si pure io ma come si mettono i c***o di indianale? eh però aspetta ma che hai vinto già una battaglia? si io ho vinto una battaglia ah ma ci credo dai la battaglia dei campioni del Modo Arra veramente campione del mondo sono stato a vincere questa battaglia nessuno io posso vincere io? non c'è per andare dai nooo fallo fare a Vincenzo dai nooo oh le leggendare davvero scocoro vaga intanto io sto vincendo di brutto quella cosa fa io? cioè io ho due moschettieri in vita quella è il livello 1 no il livello 1 è brutto e non puoi fare battaglia tra clan oh attenzione io così io si ma io miglioro tutto il posto ma non sto parlando perchè ma oh mentre voi parlare di noi questo programma è stato offerto da pasta con tonno oh questo programma è stato offerto da pasta con tonno la pasta di... tutti sanno che... questa è la pasta con tonno con tonno la pasta dobbiamo sentire questa canzone che fa la tab guarda la mia tab sei registrato? ragazzi poi trovo il mago elettrico io veramente ne ho trovato ma con l'account di chi? col mio l'account di chi? e tu attenzione saluta andrò oh mio dio no non saluto per evito buonasera vabbè cioè io c'ho tutto pronto mi ha messo due ordine attenzione la la leggendaria arriva bombariere eeeh leggendaria rara mi migliora tutto mi migliora tutto i posti mi migliora il bombarone mi migliora tutto così hai sette carte nel deck ma no i bei tempi i bei tempi del grande milaio e quando arrivi la rara uno dico male ma adesso lo mai e quanto cacchino è questa canzone? no l'ho riuscita ok ahahahah quanto da una ragione alè 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 dai il continente nero vabbè 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 siamo neri noi non paghiamo l'affitto siamo neri di noi cazzo e cazzo siamo neri non paghiamo l'affitto non dobbiamo dire neri non paghiamo l'affitto non paghiamo l'affitto siamo neri i neri non paghanno l'affitto Checco Matteo fa schifo il buon marolo a lui chi se lo ricorda il coso a lui fa schifo no il buon marolo non paghiamo l'affitto non paghiamo l'affitto attenzione la palla è pronta la palla è pronta la palla è pronta la palla è pronta basta fare i soldatini abbiamo basta ma tu ragazzi io lo cancello il video allora oddio però non era epica non sono scritto epica stavo scritto due carte che culo guarda stavo scritto guarda vengo un'altra battaglia e sta scritto epica che culo no pure a me è capitato si ma te hai capitato dopo non hai bollito ma sei il principe voglio marchizio vincita guarda domani devo fare la vaccinazione ti piace il peperone a te? no ah si ti piace il cocco il cocco il cocco no ah no non c'è il cocco ma che cocco no io non gioco dai ti piace la brasilina non è vero è più meglio la svizzera qui oh questo programma è stato aperto dai neri non va guapito non va guapito non va guapito io lo guapito io lo guapito dov'è il mondo che ho detto eh dai 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 ma io cosa sto facendo qui dai signore tu mi vuoi bene allora questo non ne va a capitare eh a me stanno mettendo canzoni a caso dai dai oh c'è ho di nuovo uno come il prima trovo di ora vabbè oh c'è già tanto che hai trovato due cuccioli di drago eh però non c'è qua se lo sento per migliorare no avrei scommesso che trovi un cucciolo allora ah perché oh puoi venire buffone a farmi da maestro come? si dai questo va a registrare è pure un po' in bordo questo si sto a ah comunque mio cugino vuole come maestro oggi ci buffone eh quindi mi ha chiesto che oggi se potevo tirare il gioco almeno un paio saluta andata perché con lei non è stato nulla solo con poco il gigante basta questo programma è stato offerto dai neri dai dai neri dai neri non pago affuso non pago affuso perché cazzo non c'è la telecamera quindi avrei fatto neri che pago affuso che dai dai la strega al 5 ah 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 laia io vado a casa è scritta notte amore l'abbiamo già capito il bordo nero io stavo per morire su quel coso c'è salita su c'è salita non è così ora posso provare con le cose qui il blu di tutta la musica lo metti il nome quale metto il nome quale metto il nome oh vaiù basta no no vaiù io non c'ho metto già lì ah si lo so mi consiglio un nome oh raga baule la corona stampi stampi oh raga calma baule l'argento va bene pasito pasito oh non si ricordo per la cima casito ok poco oro vabbè cosa poco oro che è più della normale oh paolo da corona oh non troverò mai la leggendaria attenzione oh niente si sette lampi oh guarda dai che nome metto cosa guarda guarda dai ma che nome metto che nome metto che nome metto ciao ciao Grazie a tutti.